Ciao, sono Pietro Ubaldi. Non dimenticatevi di vedere La Principessa è in un altro castello, la seconda stagione. Dal primo episodio all'ultimo, mi raccomando, non mancate Diario del Capitano, data... data odierna. Se state ascoltando questo messaggio, significa con ogni probabilità che abbiamo perduto il registratore. Siete pertanto pregati di riconsegnarlo a Herbert Satan presso nave volante H.G. Pratt, in rotta verso i confini meridionali del regno, in rotta laddove nessun Satan si era mai spinto prima. Nessuna ricompensa prevista. Oh 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 Grazie a tutti.